Una denuncia per interruzione di pubblico servizio e percosse finirà con un processo, lo scontro tra gli ex consiglieri comunali Luigi Furini del PD e Giuseppe Polizzi del Movimento 5 Stelle. Il fatto risale ad una seduta del dicembre del 2017, prima un acceso scambio di battute e poi la spinta di Furini che aveva fatto finire per terra l'ex consigliere Pentastellato. Da lì la denuncia e la comunicazione del processo arrivata soltanto un paio di giorni fa. A sabato è venuto l'ufficiale giudiziario e mi ha notificato un atto, mi ha denunciato Polizzi per interruzione di pubblico servizio e percosse, perché il fatto è del dicembre del 2017, lui mi aveva detto buffone pagliaccio, io avevo risposto con una leggera spinta, ecco questa leggera spinta è diventata un'interruzione di pubblico servizio perché si è interrotto il consiglio comunale, dice lui, e percosse, quindi adesso andiamo al processo, io non ho paura. Nonostante il processo Furini si dice sereno, anche se non del tutto, a turbarlo non è tanto l'aula di tribunale quanto piuttosto il fatto che nessun ex collega del PD lo abbia informato sulle indagini in corso, nonostante i diversi interrogatori effettuati dagli inquirenti. Mi dà fastidio un po' che delle persone del Partito Democratico al quale ero, ero iscritto, ero, sono state interrogate sulla vicenda e non mi hanno detto niente, non mi hanno detto niente e si chiamano compagni, pensa a te. Non ha chiesto spiegazioni agli ex colleghi del PD? Ancora no, adesso vado domani in tribunale, avviamo l'iter del processo, sentiamo gli avvocati, le cose e poi avrò modo di parlare con questi compagni.